Creare una coalizione politica che sia la casa comune dei riformisti che si richiamano al socialismo europeo, alla cultura democratica cattolica e alle esperienze civiche di valore nazionale per vincere e rinnovare profondamente l'Italia. E' quanto auspica il segretario del partito socialista italiano Riccardo Nencini che riunisce a Firenze i riformisti del centro-sinistra in una convention dal titolo Per amore dell'Italia, forte, libera e solidale, che non è soltanto uno slogan. Non sono soltanto tre segni di speranza, c'è una parte dell'Italia che è già così, bisogna fare diventare tutta l'Italia, terra lunga la chiamavano gli arabi, esattamente come l'abbiamo disegnata. Serve amore, serve un progetto, serve un leader, serve una coalizione che sia in grado di vincere le elezioni e di governare in maniera riformistica veramente l'Italia. L'obiettivo è quello di elaborare un progetto comune da presentare agli italiani nel 2013, quando dovranno decidere chi guidare al paese dopo il governo Monti. È un programma fatto di tre cose, la patrimoniale sulle grandi ricchezze, investimenti forti sulla conoscenza e una grande riforma delle istituzioni. Per quanto riguarda la patrimoniale, secondo il segretario del PSI, andrebbe introdotta con l'imposta progressiva tra l'1 e il 2% che colpisca quel 6% di italiani che detiene il 48% della ricchezza. Nel programma anche un rafforzamento della scuola pubblica, una riforma universitaria basata sul merito, programmi Erasmus estesi anche ai licei, statuto dei partiti in linea con l'articolo 49 della Costituzione, abbassamento del numero dei parlamentari, voto ai 16 anni e preferenza di genere. Sarcastico infine il giudizio sull'intenzione di Berlusconi di ripresentarsi agli elettori. Cosa fatta a capo A? È finito il ciclo e i cicli in politica come nella vita non si rinnovano. Storie che si ripresentano sono soltanto molto lamentose.